Buongiorno e bentrovati a tutti i quali. Noi siamo numerosissimi oggi, ma il testo, gli assenti, al sempre porto, credo che sia più che valido in questa occasione. Non credo di portarvi via tanto tempo, perché la voglia di liberare è molto, molto superiore alla voglia di sentirvi. Quindi, se volete far partire la marcia, allora lascio la parola agli organizzatori, augurando a tutti voi un grosso in bocca al lupo e successivamente ci sarà la patinica fase. Allora, un benvenuto anche da parte mia. Oggi, dopo tanta attesa per organizzare questa manifestazione, mi sento molto emozionato. guardarvi di qua a uno spettacolo. Io vi ringrazio nuovamente, condivido le parole del Presidente rispetto agli assenti. Non sanno cosa si stanno perdendo. Grazie a voi per essere venuti. 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 Grazie a voi. Grazie a voi per essere venuti. 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 Grazie a voi per essere venuti.